Sono Trizzi, questa è la mia tricicletta e oggi vi insegnerò qualche trucco per fare i vostri video in bici. Intanto se avete una bici vi consiglio di dotarvi di un casco per ovvi motivi di sicurezza ma soprattutto per fare riprese da una prospettiva perfetta. Vi consiglio di dotarvi di questo strap della GoPro. Grazie per la visione! Grazie per la visione!